Ciao, sono Egidio e come vedi ti sto parlando da una località turistica, esattamente mi trovo a Rio de Janeiro. Sono qui perché Rio è uno dei miei primi obiettivi che ho pianificato per quest'anno e come vedi si è realizzato. Se anche tu vuoi realizzare i tuoi obiettivi, vuoi che i tuoi sogni diventino realtà, ti invito a partecipare al nostro workshop Dico nostro perché saremo io e Carlo Lesma che si terrà il 25 luglio alle ore 19.30 presso il Best Western Hotel di Sesto San Giovanni. In quell'occasione ti daremo tutti gli strumenti necessari e utili affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Quindi se hai voglia che questo accada non esitare ad iscriverti, ti aspetto il 25 luglio. Ciao! Ciao!